Ma che sai a nappi a Arcarello perché ti ha detto sta vecchia? Ma non lo vedi che lo fanno apposta per fiaccarti la tempra? È come il serpente con la mela. Ah, signor, fateli cazzi tu, ah! Vabbè, non mi pare eccessivo. Senti, Arcarello è da anziani. È come girare con un cartello al collo che dice da un vecchio, un fermo che non riesce a portare tu barattoli da solo.